Allora, io ho un po' di sconti dito delle presentità, perché il tuo chiede mi ha preceduto e intervenuto nella commissione di Cassola Piedra. Ti ho raccontato, siccome l'argomento di Cassola Piedra è l'argomento che ci deve sensibilizzare tutti, e siccome abitare gli smettri, quant'altro, a Cassola Piedra risorge che in questo consenso civico tutto, metta a brutto idee per capire in questa società che fine deve fare il futuro, se deve essere una società monosematica che serve solo la comunicazione. Allora, io chiedo, eventualmente, alla società che ha segretario, per te e a tutti i consiglieri comunali, di fare il nuovo caso del Consiglio Comunale monosematico su quale futuro di Cassola Piedra, dove in quel caso potrà fare anche la possibilità delle commissioni, in quanto non potrebbe essere io o mio, di fare il Consiglio Comunale monosematico sul futuro di Cassola Piedra. In quel caso, e in quel voto, sono punte tutte le possibilità e anche di te e di persone poterla riportare su questa casa. Grazie, signor Presidente. bambi Bambi Allora il capo viene addorato con 14 minuti di palletero e 6 minuti di guagliari. Chiede di intervenire il Consigliere dell'Artenzione. Metto in orazione l'immediato del risultato dell'accensione dell'anno 2012. Ci resta più da fuori, ci si manda una prova. Il capo viene addorato con 14 minuti di palletero e 7 minuti di palletero. Non essendoci altri argomenti, a noi come decenni di guagliari. Grazie.